Ciao ragazzi, vi aspetto tutti per il secondo Spoleto Stage che si darà l'1, il 2, il 3 novembre al Teatro Nuovo. Non sarò solo in questa avventura, ma insieme a me ci saranno altri docenti molto qualificati che vi trasmetteranno la loro grande competenza. Io sono molto felice e anche un po' emozionato di ritornare a Spoleto dopo due anni. Spoleto che è da sempre la culla della cultura, dell'arte e anche della danza sia in Italia che nel mondo. Io vi saluto e vi aspetto numerosi. Ciao!